Io voglio vincere per quei milioni di bambini che in Italia vive in povertà assoluta, per i 6 milioni di bambini che ogni anno muoiono per malattie prevenibili e curabili, per ognuno dei 58 milioni di bambini che nel mondo non vanno a scuola, senza cibo, cure adeguate, opportunità educative, per ogni bambino senza un domani, dobbiamo vincere questa partita. Con un SMS possiamo donare acqua, cibo, cure mediche, educazione e contribuire così a salvare la vita a un bambino e dargli un futuro. Con Save the Children per dare un futuro ad ogni bambino.